La seconda partita di questa terza giornata tra le squadre Tilgerosi e Work in Progress Allora, Tilgerosi hanno vinto con un risultato di 5 a 3 Li facciamo presentare Borrello Vincenzo Sei allenatore? Sì Antonio Fiele Borrello Emanuel Ciappodillo Che ruolo hai tu? Soprano Mascolto 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 Cirletti Vincenzo Nicolinus Ancelo D'Antonio Tu là dietro Francesco Z Adelo privato Ciappodillo Ciappodillo Marrone Vincenzo Allora faccio parlare prima lui che è solo Così lo faccio andare a fare la doccia Tu ti chiami? Vincent Transillo Allora Grazie Durante il primo tempo eravate in netto vantaggio Poi la partita si è conclusa Come sappiamo? Come mai? Abbiamo fatto il primo tempo perfetto Però il secondo tempo hanno meritato davvero loro di vincere Tutto sommato vittoria meritata Complimenti Ci hanno giusi nell'aria E non siamo riusciti a fare un tiro in porta Va bene Grazie per essere venuto E per Complimenti per essere molto sportivo No no Prego Continua No non ti preoccupare Basta Questo è tutto Questo è tutto Salutiamo Isabel Sempre Sempre Ti amo Ti amo E basta però eh Ciao Tu già ti sei presentato? Nicolinus A un'altra volta Vabbè Allora Due gol di Bufalo Due gol di Marrone E un gol di D'Antonio Non mi prendere in giro Tu Allora Due gol di Marrone A chi dedichiamo? Dedico ai due ragazzi Che fanno parte della squadra Però non sono potuti venire Va bene Allora D'Antonio Chi è? Tu Allora Dedico questo gol Alla campagna Alla campagna Sempre E poi Bufalo Chi è? Bufalo Vuole parlare Vuole parlare lui? Voglio far parlare lui Ha detto Che me lo dedica No Ah Perciò volevi parlare Una alla nonna Una alla zia E un'altra a lui Tutta la famiglia Vabbè Qualcun allenatore Tu vuoi commentare La tua squadra? Finalmente Siamo riusciti a vincere No Non ho parlato di tempo Ma perché Lo sai perché? Perché? Ve lo dico io Perché ho fatto io la foto Per sponsorizzare La nostra paninoteca Allora facciamo una cosa Allora 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 A nome della squadra Vittoria Dedichiamo a te E ti offrimo panino E quello Sta 5 euro Panino Patatina e bib No no Ha sbagliato Ha sbagliato No non lo voglio Non ti preoccupare Me lo compro Allora te lo offriamo a te Il panino Io dedico la vittoria Alla mia bisnonna Va bene Allora Ma seriamente Dedico la vittoria A un nostro caro amico Si chiama Enrico De Simone Che è stato portato a Nisi Da un condannato Per due anni Va bene Ciao Enrico Io dedico la vittoria E ci aprirlo Un'altra volta Allenatore Allenatore Di quell'altra squadra Work in progress No no Che l'altro Che hanno perso 15 e 16 Ah e ci dispiace per loro Abbastanza umiliante E' morto Vabbè Tutti morti Pure voi Amen Ciao ragazzi